Se una commissione è nata, dopo ci sono tutte le altre parole, contro il razzismo, antisemitismo, eccetera, ma la parola iniziale contro l'istigazione e l'odio, da parte di una che l'odio l'ha provato e purtroppo lo prova ancora, vuol dire credere nel futuro, vuol dire dare una risposta positiva a un mondo intorno a noi che ci farebbe dire stiamo perdendo tutto, stiamo perdendo noi stessi. Non è vero, noi siamo fortissimi e attraverso l'indagine conoscitiva capiremo ancora di più perché combattiamo contro l'odio.